Condividiamo le parole di oggi del Presidente incaricato Draghi e pensiamo che sia responsabilità di ogni rappresentante del popolo sentire sotto sé il peso di questa responsabilità. Qui non si scherza, non ci possono essere priorità che riguardano gli interessi di parte, di partito o personale. Ci sono le priorità del Paese, le priorità del Paese in questo momento, dopo che c'è stato un fallimento della politica, non certo dovuto al Partito Democratico, ci sono quelle di dare al Paese un governo, il Presidente della Repubblica ha incaricato una persona di affidabilità assoluta, di professionalità assoluta, di credibilità assoluta, quindi noi siamo impegnati con generosità. Ma siete preoccupati per il fatto che Leo non è così con sé, così è convinto. Non siamo preoccupati sempre per il Paese, poi per i partiti.